Musica Benvenuti a voi tutti cari amici di Termoli TV Nuovo riposo forzato alla Fiat di Termoli 2013 inizierà con altri 6 giorni di cassa integrazione ma vediamo il servizio di Elisabeth Fernandez Il 7, il 14, il 21 e il 28 gennaio del 2013 tutto lo stabilimento Fiat di Termoli sarà fermo per i circa 2.500 lavoratori saranno 4 giorni di stop l'azienda ha annunciato altra cassa integrazione comunicazione che nella sostanza nell'ultimo anno è ormai una costante per altri 4 giorni invece ossia l'8, il 15, il 22 e il 29 gennaio saranno fermi i lavoratori del comparto motori 8 e 16 valvole il mercato degli automobili vede una frizione del 26% nelle vendite una situazione nazionale e non solo che tocca visibilmente il settore metalmeccanico a Termoli continuano a manifestarsi preoccupazioni e soprattutto situazioni ormai all'ordine del giorno la CIG infatti è una modalità di stop frequente, troppo Dopo l'incendio avvenuto ieri mattina presso la scuola di Riovivo la minoranza ha indirizzato una mozione urgente al Presidente del Consiglio nella quale si chiede un intervento tempestivo per garantire la sicurezza a scuola il primo firmatario della mozione Paolo Marinucci insieme ai colleghi hanno richiesto inoltre l'inserimento di questa importantissima mozione tra gli argomenti dell'ordine del giorno nel Consiglio Comunale che si terrà venerdì non ce l'ha fatta una quarantenne di Termoli che dopo 6 ore di encefalogramma è venuta a mancare i genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi sentiamo Anna De Gregorio emorragia cerebrale questa è la causa che ha portato alla morte una donna termolese di 40 anni ricoverata nel centro di rianimazione dell'ospedale Santimotio per l'intera giornata di ieri la donna è stata costantemente tenuta sotto osservazione ma dopo un encefalogramma durato ben 6 ore la quarantenne non ce l'ha fatta ma la magnanimità dei genitori straziati di dolore per la morte della figlia è stata così grande da autorizzare l'espianto e la donazione degli organi della donna subito i medici dell'ospedale Termolese, circa 15 specialisti provenienti anche dall'Aquila e guidati dal dottore Giovanni Di Girolamo hanno proceduto per circa 10 ore all'espianto di due reni, cuore, fegato, polmoni e le due corne che saranno destinati ai pazienti in lista d'attesa al termine dell'intervento si è proceduta la consegna negli ospedali dell'Aquila di Bologna degli organi espiantati un gesto di grande umanità questo che senz'altro fa onore ai familiari della donna morta che hanno donato non solo gli organi della figlia ma la possibilità a 7 persone di poter continuare a vivere ancora il presidente dell'Euroregione Adriatica Michele Iorio questa mattina ha tenuto presso la giunta regionale una conferenza stampa sulla decisione del Consiglio Europeo tenutosi lo scorso 14 dicembre a Bruxelles con la quale è stato dato mandato alla Commissione Europea di strutturare una strategia di sviluppo per l'area Adriatico Ionica difendiamo la vita umana dal concepimento fino al termine naturale sosteniamo la maternità difficile questo è lo slogan dell'associazione di volontariato Movimento per la vita a Termoli all'Unsa la quale una delegazione e rappresentanza di squadra e staff tecnico di Termoli Carcio capitanata da Marcello Corazzini donerà bene di prima necessità per donne e famiglie in difficoltà per la gravidanza l'iniziativa si terrà domani alle ore 11 presso la scuola Campolieti in corso nazionale concorso insegnanti in Molise strage di bocciati passa il quiz solo il 21,3% vediamo strage di bocciati in Molise al concorsone per gli aspiranti insegnanti che avevano fatto domanda per ottenere una delle 68 cattedre disponibili nella nostra regione solo il 21,3% dei candidati che hanno sostenuto il questionario composto da 50 domande sulle materie di insegnamento hanno passato la prima preselezione alle prove che si sono svolte il 17 e il 18 dicembre erano attesi in tutta Italia 327.798 aspiranti docenti di questi se ne sono presentati 264.423 e solo 88.610 candidati hanno superato la prova ovvero il 33,5% nella classifica delle regioni italiane resa nota dal MIUR il Molise è all'ultimo posto tra le regioni con le percentuali più basse il test rappresenta però solo il primo passo per definire le persone che accederanno al concorso vero e proprio il concorsone si è concluso nella serata di ieri e la maggior parte dei candidati che si è seduta nella propria postazione per rispondere alle domande previste dal quiz si è alzata non avendo superato la prova grazie alla formula informatizzata infatti i risultati delle prove sono stati resi noti subito dopo la fine del test gli aspiranti professori si sono preparati con le prove messe a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione che le ha rese disponibili sul proprio sito i primi giorni di dicembre logica, matematica, comprensione del testo, lingua straniera un mix di domande che hanno decretato una cernita mai vista prima il 15 gennaio 2013 verrà reso noto il calendario delle prove scritte sulla gazzetta ufficiale dopo le prove scritte e gli orali invece ci sarà la valutazione delle conoscenze professionali più specifiche il terzo concorso fotografico partito in concomitanza con l'ottava edizione della Scopri Termoli che si è tenuto l'8 dicembre ha avuto il suo vincitore ad aggiudicarsi il concorso è stato Alex Franizzi di Campobasso con un bellissimo scatto che rispecchia in pieno il tema del concorso ponendo in risalto una sceglia di atleti dai colori sgargianti in fila sotto le mura del castello e con questa era l'ultima notizia vi ricordo che per qualsiasi generazione potete contattarci all'email a redazione chiocciolatermoli.tv grazie della vostra corsia di attenzione e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti